Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins, magari aggiustiamo un attimo perché la ripresa era un pochino brutta Benvenuti su questo nuovo video, c'è una nuova espansione, sì lo so, il video su Secret Slayers è venuto veramente poco tempo fa Ma c'è ma fa, hanno deciso di far uscire in continuazione roba nonostante il lockdown e quindi di conseguenza Ci ritroviamo a letteralmente due settimane scarse dall'uscita di Secret Slayers, assassini segreti Con una nuova espansione, codice, eternità, eternity code, un'espansione attesissima perché è un'espansione incredibile Dà veramente supporti a tantissimi mazzi, supporta tutti, tu, oddio Supportare tutti gli archetipi non è matematicamente possibile in un'espansione soltanto però è un'espansione di supporto veramente veramente grossa Come al solito ci ritroviamo sulla stessa solita domanda che ci facciamo ogni volta in questo tipo di video Vale la pena investire su questa espansione? Allora, sullo sbustare questa espansione dipende perché dipende da quanti mazzi interessati avete qua dentro Sul comprare le singole dipende perché dipende da quali mazzi avete, dipende da quali carte vi interessano e dipende da cosa vi volete fare In ogni caso io direi di incominciare subito ad introdurre la maggior parte dei supporti che ci sono E cominciamo soprattutto da Ancient Warrior Adesso siamo direttamente sulla pagina di Car Market, ho messo in ordine di alfabetico E quindi ci ritroviamo dopo Axie Scott Walker, link generico, fortissimo assolutamente Questa è una carta must have secondo me, quindi vi conviene prenderla Non in pre-vendita ovviamente, assolutamente no Però abbiamo gli Ancient Warrior Ancient Warrior è un mazzo che era stato introdotto in Ignition Assault, in IGAS Il mazzo è carino, pecca un pochettino di prepotenza, però è simpatico dai, è un ottimo for fun Ci potete fare dei gran bei OTK, belli 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 Il mazzo è simpatico, Domenico, il ragazzo che ha portato la lista di Grimmaggio Stromberg su GT Lo sta buildando e quando insomma si potrà finalmente uscire Appena lo vedrò penso che faremo la lista di questo Ancient Warrior che sta buildando lui Assolutamente un mazzo for fun, molto interessante Dubito fortemente che possa diventare meta, però è divertente, costa poco Quindi ci sta assolutamente se ve lo volete buildare Arch Nemesis è un po' diversa la situazione perché Arch Nemesis è forte È un'antimeta a tutti gli effetti C'è Eskatos e l'altro era Protos se non ricordo male Che sono due bastardoni perché sostanzialmente ragazzi Uno dichiari un attributo, l'altro dichiari un tipo Distruggi il mostro di quell'attributo e di quel tipo Sostanzialmente fino alla fine del turno del tuo avversario Nessuno può evocare specialmente mostre di quel tipo e attributo Quello è il problema Che Eskatos non può essere distrutto da effetti Quindi di conseguenza l'effetto si attiva, lui non viene distrutto Voi direte, eh ma è limitato al suo attributo e tipo Cazzata perché esiste una carta chiamata Reprorocus E quindi di conseguenza c'è una bella interazione con Reprorocus Che cambia magari il tipo o attributo di Eskatos E con Protos o Eskatos dichiarate il tipo o attributo Non ricordo precisamente quelli dei due Mi pare che Eskatos dichiari il tipo Protos dichiari l'attributo Ragazzi è un'antimeta fortissimo Tra l'altro Eskatos è pure un 3000 È devastante, veramente fortissimo Ovviamente ragazzi per arrivare a fare una cosa del genere Non si deve beccare Nibiru Però sta sopra a qualche negate tranquillamente Se becca Nibiru muore Però veramente un'antimeta molto molto ben fatto Poi abbiamo, di questo ne parliamo dopo Abbiamo Chamber Dragon Maid È anche la sua versione un pochino più pompata La fusione, fortissima Rende Dragon Maid meta? No, non rende assolutamente Dragon Maid meta Tra l'altro Chamber è anche Starlight Va bene, a caso Non rende assolutamente Dragon Maid meta Per niente Però sono sia lei che Strahl Due carte veramente, veramente fortissime Rendono Dragon Maid molto più forte Rispetto a quello che era prima Spero che Simone possa registrare una profile di questo mazzo Perché lui lo utilizza da tantissimo tempo Io dovrei vederlo da zero questo mazzo Quindi di conseguenza la faccio portare direttamente da qualcuno Che il mazzo ce l'ha da tempo, la profile Ragazzi, Dragon Maid è un mazzo interessante con questo supporto È un ottimo for fun Potrebbe diventare Rogue? Bisogna vedere, dipende dal meta Dragon Maid ragazzi soffre tanto le carte che bandiscono dal cimitero purtroppo Quindi di conseguenza bisogna un attimo vedere Ci sono supporti ad amanti a Burning Draw Che è una carta abbastanza interessante Adesso non so se qui ci sono già gli effetti scritti Burning Draw Burning Draw, dicevo, è una carta abbastanza interessante Così come anche le altre carte Salamagna Però comunque Salamagna rimane quello che è sempre Quindi è un ottimo mazzo a prescindere dai supporti che gli danno Ovviamente altri supporti per Cold C'è Cold Breaker, Cold Breaker Zero Day Crimson Resonator Che è un'altra versione di Diapason Rosso praticamente Dipsy Questo è T1 Indiscusso È un mazzo fortissimo Non a caso le carte più importanti Cioè Prima Donna e Aria Soprattutto la Magia Sono carte importanti per il mazzo E quindi sono alte di rarità Ragazzi Dipsy è qualcosa di incredibile E può fare tranquillamente adesso Molto più facilmente Combo lock Hand loop Meno 5 in mano È tremendo Fa una combo in modo da toglierti 5 carte dalla mano In modo che tu puoi Non puoi ripartire matematicamente A meno che non becchi la carta Che da sola ti fa partire il mazzo E non ti deve essere renegata Ragazzi Dipsy è un ottimo mazzo Mischiato con Mermail Non ne parliamo È assolutamente fortissimo Io lo definisco il prossimo T1 Mermail praticamente Ragazzi è veramente incredibile il supporto che hanno dato a Mermail Indirettamente alla fine perché Dipsy è un archetipo a sé stante adesso Ma Dipsy Diva si usa in Mermail Quindi voglio dire 2 più 2 Vabbè Poi c'è Shew che sarebbe la fusione che avevo retto di Dragon Maid Si chiamava Stral Hanno deciso di sfancolare il nome Va bene C'è la nuova incantatrice Quella d'acqua aerea È arrivata anche lei finalmente Ovviamente è anche Starlight come tutte le ammagliatrici Quindi vabbè ci sta una carta carina Supporto i Volai Supporto i Gnister Per il supporto i Gnister ci sono Gacci dei Gussari Che non sono male Però soprattutto ce n'è un altro di cui parleremo dopo E penso che sia arrivato il momento di parlare Oltre a Gizme Kuka Supporto fortissimo Gizme Kuka Supporto per Orkust e McKnight C'è Girsu Carta fortissima Fa tornare in auge Orkust E fa tornare in auge McKnight Probabilmente avrete già visto Oppure non lo so se vedrete la profile di Orkust post-etco Ragazzi è veramente veramente forte Ovviamente c'è il supporto anche ai Thunder Dragon Attesissimo anche quello Migliora sicuramente la condizione del mazzo C'è la Novent Trap Che è tipo un Veiler Soltanto che è un pochino più pompato rispetto a Veiler Però ragazzi Questa Ghost Mariner e Moonlight Chill Secondo me non prenderà tanto posto in meta Perché comunque ci sono carte più forti Ci sono carte più forti Come avevo anticipato Un Link 6 di Ignister Che si chiama The Reval Cybers Però non è di Ignister Per esempio è un supporto generico Abbastanza generico Che diventa immune Fortissimo anche lui Si becca caggia e muore Però fa niente Siamo abituati a queste cose Non lo supporto ma dolce Ma ragazzi è arrivato il momento di parlare Di questa bella cosa qui Supporti per Plunder Patrol Si sapeva che sarebbero arrivati Ragazzi I supporti sono veramente stupendi Adesso Plunder Patrol Ha un modo in più In realtà diversi modi in più Per lockarsi su Plunder Patrol Però il mazzo È molto più completo rispetto a prima Golden Air Se gli speciale a minchia dal cimitero E non si banna Ok va bene Poi Iron Gate Di effetti di mostri Grazie a Liss Che ha anche luce Quindi adesso Gli attributi da Exadec Di Plunder Patrol Diventano quattro Oscurità Fuoco Acqua E luce Poi ha una carta Che da sola Gli fa fare Fusione O link C'è un'altra carta Che gli fa Tranquillamente Specialare roba Un'altra Che gli fa Equipaggiare roba È Un mazzo Veramente Veramente forte Anche di questo mazzo Arriverà A Deck Profile Portata Da Genu Perché lo state stando A diverso tempo Ragazzi È divertente Plunder Patrol Come mazzo È carino Sono carucci Anche loro Sono fatti molto bene Sono divertenti Io non ve lo farò mai Perché non lo so utilizzare E quindi evito Però Comunque Mamma mia Cosa sono questi supporti Plunder Patrol Il mazzo per il momento Non è T1 Nemmeno T2 Probabilmente Però è un rogue Veramente di alto livello Può veramente giocarsela Ora contro tutti Prossimo Vabbè Gowuki Li abbiamo già visti Nella edizione speciale Di Igas Tra l'altro Da questa espansione Non ci sono più le rare E non ci sono più Le edizioni speciali Ovviamente per quanto riguarda Le espansioni da Nove carte Per ogni bustina Quindi ci sarà solo O la super O la ultra O la secret Nelle bustine Ci sono altri supporti Per Generade C'è un nuovo boss monster E un piccolino E un piccolino Che letteralmente È il piccolino Che ci fa andare A prendere il gigante Quindi Ci sta Generade Continua ad avere supporti Anche Megalito Ha avuto un supporto La carta più forte Di Megalito Ora come ora E quindi Anche Megalito A breve potrei dire La sua Gravediggers Trappol Neghi l'effetto Di un mostro Attivato dalla mano Nel cimitero E fai 2.000 Al tuo avversario Ovviamente stampata secret Ragazzi Secondo me Questa sarà Una trappola Che si giocherà Penso ovunque Anche perché Ti può tranquillamente Far vincere La partita al tempo Quindi È bella forte Invoca Augo Eides Tra l'altro Costa 17 euro È calata abbastanza Invoca Augo Eides Che sarebbe La nuova fusione Invoca Carina Bella forte Non aveva proprio bisogno Di questa fusione Invoca Come engine Però va bene È bella forte Molto forte Poi abbiamo Sto bastardo qua Che è una carta Rotta in culo E verrà sicuramente Alla prima banda Disponibile Limitata Lo fai con il link 2 Ok Effetto Generi due token I token Non possono essere usati Per evocare il link Però Ti fa fare Le peggio scombatte Sincro Ok Supporti macchina È uscito Lo structure deck Quindi ci sta Marinsess Marincessa Allora Marinsess Ha avuto In questa espansione Due supporti Basilalima E Gritbubble Gritbubble Non ricordo Come si chiama Troviamo la prossima pagina Gritbubble Riff Ragazzi Basilalima È carina Monocopia Si potrebbe pure inserire Gritbubble Riff È assolutamente Fortissima Può raggiungere Una quantità di attacco Veramente esorbitante Grazie alla terreno Non so che È bella come carta È bella Un link 4 Stupendo Però il problema Di Marinsess Rimane sempre quello Lì vive la terreno È finita Vabbè Per supportare Cybers in generale Esce Parallelixid Si evoca specialmente Dalla mano In una zona puntata Da un mostro link Quando viene evocato Il mostro link Si speciala in questo modo E poi potete evocare Due altri Parallelixid Dal deck Quindi Ok Va bene Come volete voi Poi c'è Un altro supporto Performapal Secondo me Abbastanza Me Come carta E dopo questo Ci ritroviamo Altre carte Un po' a caso Insomma C'è party Che non è a caso Ovviamente ve l'ho già spiegato Liss All'inizio stava 80 euro Adesso è calata ad 11 Come minima Continuerò a calare Perché Comunque Ragazzi Non 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 Cazzo fai a mettermi Planner 4 All'80 euro Seriamente Superivi Samurai Ecco Che altro mancava Loro Eh sì Ci sono supporti Superivi Samurai Ma manca ancora il link Quindi Ok Poi si sono un sincromoso Con effetto Ovviamente Zebroide X Tutti i supporti Salamagna Che avevo già detto The Arrival Cybers Trander Dragonlord È vero Non si chiama Non si chiama Sky Rumble Si chiama Dragonlord Va bene Bella forte Traptrix Salomerus Un altro supporto Traptrix Carino Ci sta Abbastanza utile Per il mazzo Titanocider Questa è forte È una carta Che nega Una trappola C'è Apollo Usa Nell'artwork Quindi Vale 20 euro Solo perché C'è Apollo Usa Nell'artwork Vale 20 euro Vabbè Ovviamente Sarama Che era stata Già stampata Su Rupert Nell'edizione speciale Dell'ultimo Dell'ultima Espansione Quindi Ignition Assault E infine Ultima carta Interessante È Union Driver Che è scesa A 2,70 euro Ragazzi Sto coso Lo attacchi Di Union Carrier E sostanzialmente Fa cose Come tutti Le carte Un Union Che stanno facendo Adesso Sulla sua motivazione Per il quale Verrà bannato Cioè Che ti permette Combos grave E quindi Tante cagate Ti permette Quindi di conseguenza Vabbè In ogni caso Questa è Tutta l'espansione All'incirca Avete visto Più o meno Tutto Le altre carte Singole Non ne ho parlato C'è qualcosina Interessante In realtà È molto interessante Questa espansione Vale la pena Comprare le bustine Sì Perché questa espansione È Grossa È enorme È veramente 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 Importante Però Anche no Dipende da voi Dipende se voi Avete dei mazzi Che possono sfruttare Queste carte qua E quindi Di conseguenza Se ce li avete Vale la pena Comprare delle bustine Dei box Se non ce li avete Non ne vale la pena Vale la pena Se comprare Dei bustine O Dei Dei box Secondo me sì Ma dipende Sempre da voi Come detto sempre 20 minuti Madonna Allora ragazzi Questo era quello Che avevo da dire Per quanto riguarda Eternity Code Arriverà In futuro Arriveranno in futuro Diverse profile Per questa espansione Perché Ci sono tante profile Da fare Grazie a questa espansione Ragazzi Noi ci vediamo Domani alle 15 Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi sì Ciao Grazie a tutti.